Il ragno numero 5. Come ho fatto? Hai preso la testa da una tapparella. Ma volevo entrare. E metto l'altro rubino. No, dammelo in tre. E vai a fare il culo. No, dammi le cigarette. E vattene a fare il culo. Volevo entrare. Poi ho detto, svegli e andavo qua. No, se gli spaghi il tappadello e paghi. Sì, hai avuto avanti. No, no, no. Tre palazzi qua. Ma a me ne mi interessa. Guarda che stamattina il procuratore capo. Ma basta, aspetta.